Volete una pasta veloce? Che si fa col tempo di cottura dello spaghetto? Allora, vediamo, vediamo se è bene Allora, più tutto la pasta deve essere buona qui c'è una tra le mie preferite la cocco, la pasta cocco, buonissima vado, acqua a piena ebollizione e butto qua dentro, ok? Poi, dopo prendo il guanciale, il guanciale è questo e il guanciale è questo Ehi, ehi, mi raccomando il guanciale è questo non è pancetta, il guanciale è questo questa è la pasta, la dicono alla pecorara adesso vi faccio capire perché quindi, guanciale, quindi è una cosa che che si può trasportare, non si rovina a qualsiasi temperatura quindi questo pecoraro con questo guanciale andava in giro poi, il pecorino il pecorino che ne vogliamo far là è la stessa identica cosa la ricotta se non fa bollere il pecoraro, chi la fa? la faccio io la ricotta fa bollere il pecoraro poi vedete come lo sto tagliando piccoletto? piccolo, piccolo, piccolo se ho lavato tutto il pepe sopra lo sapete che a me non mi piace poi, prendo così e metto qua senza olio perché il pecoraro non ce l'ha all'olio, no? e metto qua dentro un po' alla matriciana, insomma, no? o alla grigia poi il pecoraro per la ricotta quella che gli serve eccola qua, fresca, buona di pecora mi raccomando eccola qui e poi che fa il pecoraro? dato che è un po' asciuttina io prendo un goccio d'acqua di cottura della pasta così prendo la frusta così bella, così guardate, come bella la mamma mia, eccola qua, piano piano poi, pepe come se non ci fosse un domani bello profumato al mulinello noi compriamo il pepe sano in grani e poi lo maciniamo al mulinello guardate qui poi la crema è pronta poi se c'è bisogno aggiungiamo un altro pochino di acqua di cottura adesso guardate qua deve essere croccantino però sapete no crocchette per i cani eh quelle che si dice biscottini, capito? no croccante ma giusto lo coccoliamo bene così la pasta intanto sta andando eh mi piace così mi piace così così guardate è bello mamma mia questo è il il croccantino il sapido da prendere in mezzo a questa pasta, no? vado così fate le rubette guanciale eh vi vedo eh non ci provate eh se prendete i cubetti giate tra la bustina la scatoletta non ci provate adesso la pasta vediamo un po' io controllo sempre se è cotta vediamo un po' abbiamo fatto più la salsa che la pasta un minuto aspettate un attimo la pasta è pronta vado qua bella così allora levo questa guardate che faccio eh l'olio non ce l'ha il pecoraro però il grasso di guanciale si tiè beccate questa tiè mamma mia aspettate un attimo faccio così mamma mia ma che poesia che è tiè e però non è finita nemmeno qui un altro pochetto d'acqua più cremosa la voglio poi pecorino ecco qua guardate guardate che che spettacolo oggi niente rumore dell'amore eh vai mamma mia so lo fa lo fa lo fa poi questo eeeh tiè vai guardate che spettacolo vai 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 ma quanto è bella tiè tiè io la mangio qua mi piace più qua dentro ma la vai assaggiare eh tiè guarda qua mmm 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 la 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 proteica pure guarda tiè beccati pure questa dolce dolce la ricotta che è un dolce la panna e poi quel tocco di esabetità del guanciale e un po' di pepe che ti rinfresca e ti pulisce la bocca provateci facile buona e sempre economica buona 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 ch camping